Marco Visconti, presidente dei viticoltori, raccoglie l'assist di Paolo Massobero, convinto che oltre ad avere un grande passato il vino Varesino, possa avere anche un futuro importante. Chi, come noi, crede nel rilancio? Si faccia avanti. Scopo dell'associazione è non solo riportare la viticoltura varese, ma anche farla conoscere, quindi promuovere non solo i vini, ma anche proprio il territorio, con anche gli altri produttori. Infatti siamo all'interno del progetto Terre di Varese, quindi siamo noi dei vini insieme alla formagella del Luinese. Questa è una collaborazione che permette all'interno delle esperienze singole nelle cantine, o come oggi qui a Cascina Ronchetto, di poter degustare tutto quello che il territorio varesino propone.